io tengo una comune a roma un'oasi di pace e di tranquillità spirituale insomma il posto giusto per gente libera come voi è una grande famiglia ecco questo mettiamolo qua e cominciamo la cerimonia dell'iniziazione ecco la trattoria dall'aspetto si direbbe economica spero che sia molto economica evviva c'è il jukebox lo vuoi un panino e vabbè mangiamoci questo panino ma sì dai balliamo tutti sveglia pazzo se arrabbano ecco i giovani d'oggi andiamo c'è puzza di merda qui dentro tanto è stato sempre così se balli sei una puttana se ridi sei una puttana se fai l'autostop sei pazza oltre che puttana non dovrei divertirmi mai e invece io mi diverto ehi lì c'è si cambia vieni ci parti a roma non è vero è qui che dobbiamo metterci ma l'hai visto sembra finto questo che sì ma questo è il posto migliore della collina è duro come la pigna è tutto merito del jeans stretto chiamò jeans sta bene sul tuo panno eh ma che c'è i nervi carmate eh non vedi questa ah sì se vuoi te carmo io e mica sono a lei pure a te te carmo aria aria riccioleva bravo bravo va va pace male vi siete sistemata qua eh arazzario chi so io ah ma se non lo sai tu come faccio a non lo sai tu come faccio a saperlo io scusa grazie a tutti